Visita oggi ad Agrigento del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Paolo Tronca. Quest'ultimo è stato ricevuto dal Prefetto di Agrigento, Francesca Ferrantino, presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Villaseta. A fare gli onori di casa è il Comandante Salvatore Rizzo. Schierato nella piazza di addestramento il picchetto formato dai Vigili del Fuoco, a cui il Prefetto Tronca ha stretto la mano per ringraziarli personalmente del grande lavoro che gli uomini del Comando Provinciale stanno eseguendo all'Ambedusa. Sì, uomini che meritano una testimonianza di vicinanza da parte del Dipartimento perché sono uomini che sono impegnati da diverso tempo su un fronte molto complesso, molto impegnativo. Per cui era molto importante per me venire qua e soprattutto per ringraziarli, come ho fatto già per gli uomini del Comando di Caltanissette e come farò domani per gli uomini del Comando di Trapani. La visita nella città dei Templi dell'alto dirigente del Ministero degli Interni non è stata accolta da alcune sigle sindacali che, in segno di protesta, si sono rifiutate di incontrarlo.